Buona la prima si può dire in casa Liugio Nord Meccanica. Sabato le ragazze di coach Micelli hanno sostenuto la primavera amichevole stagionale ed hanno sconfitto a Carpi 3 a 1 le forti avversarie del Volero Durigo. Formazioni rimaneggiate da una parte e dall'altra, un po' per il turnover utile a inserire nei meccanismi di squadra tutte le giocatrici, un po' per gli impegni delle nazionali. Le modenesi sono scese in campo prive di Bosetti, Leonardi e da Ehrman, ma anche di Ferretti ancora alle prese con il programma di lavoro differenziato. Dall'altra parte impegno part-time per le big come Akhirandewu e Mamadova, un test che non ha detto tutta la verità sulla forza delle due formazioni dunque, ma che induce all'ottimismo viste anche le prestazioni di Ozoi e soprattutto Bracocevic, autrice di 22 punti con il 44% in attacco. Oggi la squadra è tornata al lavoro per la terz'ultima settimana di allenamenti prima dell'inizio del campionato e nel weekend sarà impegnata in un torneo contro tre rivali che ritroverà anche durante l'annata. Sabato e domenica infatti le bianconere parteciperanno al torneo di Ostiano, affrontando in semifinale alle ore 17 la Fopa Pedretti Bergamo, mentre dall'altra parte del cosiddetto Taballone ci saranno la Pomica Salmaggiore e la Metallega Montichiari. Domenica ovviamente andranno in scena le finali fra le perdenti e poi fra le vincenti, il tutto a partire dalle ore 15 e 30.